PNRR, fondi statali e regionali, progetti che a San Salvatore di Fitalia vedranno la luce a breve. Il sindaco Giuseppe Pizzolante ci ha spiegato quali sono le prospettive per il centro montano, a partire dalla questione idrica. Ci siamo mossi immediatamente, abbiamo fatto un pozzo in località Sant'Anna, è una raccolta di una sorgente sempre in località Sant'Anna e abbiamo attenuato di molto questo problema. Inoltre il mese scorso abbiamo deliberato anche l'esecuzione di un altro pozzo in località Pianomazza che purtroppo serviva al tempo agli impianti sportivi, il cimitero ed altri privati che è secco da qualche anno. Abbiamo deliberato appunto questo intervento, a breve sarà eseguito anche quest'altro pozzo in località Pianomazza. Abbiamo partecipato a un bando dell'assessorato regionale lavori pubblici, famoso click day, siamo arrivati i tredicesimi e abbiamo ottenuto un finanziamento per la riqualificazione di una zona del nostro paese che è la piazza Santa Caterina, piazzetta antistante ai Carabinieri che già è stata mandata in gara. Poi abbiamo ottenuto anche il finanziamento per la costruzione di un auditorium all'aperto, altri 770 mila euro ed è in via di definizione anche questo progetto e avremo il decreto a breve. Per quanto riguarda i fondi al PNRR? Siamo capofila in un bando che vedeva coinvolti i comuni fino a 5 mila abitanti, abbiamo fatto un bellissimo progetto con Engalati e Mirto, San Salvatore è il capofila dicevo, abbiamo coinvolto le associazioni e come tema è il tema musicale delle bande musicali, quindi molto interessante. Poi abbiamo partecipato anche al bando per i borghi superiori a 15 mila abitanti, capofila Longi, in questo bando abbiamo inserito riqualificazioni di parte del centro urbano. Ho partecipato al bando per la costituzione di un SAI a San Salvatore e quindi per l'accoglienza di 20 profughi. Grazie.